E' bene che questi... ...sanno a fare... Un minuto e due gol ha fatto eh! A zero! Guarda Charles! L'ho chiamato Charles eh! Non poteva deludermi eh! Adesso vuole andare a giocare là nel campo dell'Alessandro E' di doppietta di Charles, di Castagna e di Rillo Bravo Dario! Bravo Dario! Bravo Dario! Grazie.